devo far vedere la distanza guarda, se ne riprendi che tocco le spalle no, che tocco le spalle è come un'altra tanto si vede? si, si almeno io ho carico si parte dal wall climb grazie 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 a tutti. 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 5.27 Grazie a tutti. 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 Vai a tutti. Vai a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.